E lasciamo il calcio, parliamo di pallavolo perché nel pomeriggio di martedì 16 agosto parte la stagione 2022-2023 di Modena Volli con le prime valutazioni al Palapanini. A guidare la preparazione in questa prima fase saranno l'assistant coach Sebastian Carotti e il preparatore Oscar Berti, visto che Gianni è impegnato con la nazionale francese in vista dei mondiali che inizieranno il 26 agosto. Della prima squadra inizieranno la preparazione sin da subito il palleggiatore Salsi, Liberi, Rossini e Gollini, lo schiacciatore Rinaldi, centrali Stankovic, Bossi e Sanguinetti e l'opposto Lorenzo Sala. Agli atleti della prima squadra verranno aggregati alcuni giocatori della Serie B, il palleggiatore Melato, l'opposto Paoli, gli schiacciatori Menabue, Malavasi, Brondolo, Alessandro Gozzi e il centrale Luca Tauletta. Quindi come detto martedì 16 agosto il via alla stagione 2023 di Modena Volli.